Necessaria una riflessione anche alla luce di quelle che sono le notizie che provengono da uno dei maggiori luoghi di aggregazione lavorativa presenti nella nostra regione, la Fiat. Lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Perrino, Carlucci e Leggeri. Decisa la chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado nella nostra regione, Bardi l'ha ritenuto una decisione necessaria, forte del parere dell'ANCI e della maggioranza dei componenti dell'unità di crisi. Tuttavia è impossibile trascurare il dissenso che sottostà a questa decisione, visto che ci sono stati strascichi sia a livello di task force che all'interno dell'ANCI stessa. I freddi numeri estratti dalla piattaforma regionale, dicono, non fotografano completamente la realtà dei contagi. Attualmente risulterebbero circa 100 contagi tra gli operai nello stabilimento di Melfi. La maggior parte di questi operai sicuramente si avvale dei servizi di trasporto pubblico per raggiungere San Nicola di Melfi da vari paesi della regione, persino dalle cosiddette zone rosse, ma anche dalle regioni di Mitrofe. È chiaro che una situazione del genere rappresenta una forte criticità nell'opera di contrasto alla diffusione del virus. A questo punto, dicono Perrino, Leggeri e Carlucci, visto che si è scelto di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, causando non pochi disagi a migliaia di famiglie, non si capisce perché non si ponga la giusta attenzione ai protocolli anticontagio in vigore all'interno delle aziende operanti sul territorio regionale. FCA farebbe bene a prendere spunto da qualche parente altolocato del mondo automobilistico, come ad esempio la Ferrari di Maranello. Ora come ora, sarebbe necessaria una campagna di controllo tramite test rapidi come quella messa in piedi del cavallino rampante.